Il metodo era quasi una fissazione per Franco Albini, nel senso che lui voleva proprio fondare una scuola di metodo. Lui sosteneva che il metodo fosse un'argine alla licenza fantasiosa. Albini invece voleva testare l'intuizione e testava l'intuizione nel tempo con una ricerca, quella che Le Corbusier poi definiva la ricerca paziente, per cui le sue opere duravano anche, avevano un iter progettuale anche di 15-20 anni, proprio perché lui sosteneva che la licenza fantasiosa non ti permette di arrivare all'anima delle cose. E quello che deve fare un buon architetto è tradurre l'anima delle cose in una forma. Le cose non sono solo forma, ma appartengono alla gente, appartengono alla memoria della gente, appartengono a un tessuto sociale anche delle persone. La scuola di metodo consiste anche nello smontare un oggetto, lo smontare un edificio in pezzi e quello che Piano poi diceva, io ho rubato questo metodo ad Albini, il metodo del procedere pezzo per pezzo. Questo fa sì che l'architettura e il design diventino un'unica cosa, quindi anche nell'architettura tu disegni il singolo pezzo e riesci a verificarlo veramente perché ce l'hai in mano e poi lo ricomponi nella forma finale. Quindi non si parte mai da una forma precostituita, ma si arriva alla forma attraverso il disegno dei singoli pezzi che la compongono. Un altro criterio della scuola di metodo era anche la riduzione all'essenziale. Quindi nei pezzi di design, così come nell'architettura, ci sono le parti solide e le parti tese, quindi queste parti tese che riconosciamo in Albini nell'utilizzo del cavo per esempio, quindi tutte queste parti che sono queste congiunzioni sottilissime che riducono il pezzo il più possibile proprio per arrivare all'anima delle cose. Un esempio di questo è il tavolo a cavalletto, piuttosto che la libreria e il vegliero, piuttosto che anche tanti allestimenti in cui veniva utilizzato il cavo quasi come una rete che creasse una sorta di controsoffitto su cui poggiavano questi montanti verticali.